Buonasera, grazie a tutti i di essere intervenuti così numerosi in questa serata dalla Trevi Alberto Sorbi della Cineteca Nazionale, perché questa sera il centro sperimentale, anche con una sua retrospettiva che è già iniziata e che continuerà nei prossimi giorni, rende omaggio a un galantuomo degli schermi, un uomo schivo ma soprattutto un attore che ha saputo coniugare in maniera esemplare la semplicità, la naturalezza, la misura con grande equilibrio e con grande senso della recitazione e queste sono doti essenziali nell'arte della recitazione. Noi del centro sperimentale Cineteca Nazionale gli abbiamo dedicato una pubblicazione di cui è autore Roberto Liberatori che stasera è qui con noi ovviamente, è una pubblicazione che abbiamo realizzato con il nostro staff editoriale in coedizione con Teche che ringraziamo molto di avercela proposta, Teche che stasera è qui, è stata tra l'altro offrendo la pubblicazione in anteprima per chi la desidera anche acquistare, qui all'uscita dalla sala, io ringrazio in particolare Laura Delicolli che tutti conoscete che è stata così cortese in questa intervista con l'autore. Io non faccio altri preamboli, cedo senz'altro la parola a Laura e a Roberto, semplicemente riportando il saluto di chi non c'è purtroppo per un'influenza improvvisa, cioè il presidente Stefano Rulli e il direttore generale Marcello Foti che aveva un altro impegno. Io vorrei cominciare subito ad entrare nel discorso, per noi è stata un'impresa molto faticosa ma di grande soddisfazione, noi abbiamo creduto in questo progetto che Roberto mi ha presentato diversi mesi fa, ci abbiamo creduto in fondo, è un volume eminentemente biografico ma non è soltanto un grande omaggio, è un approfondimento attento e importante sulla figura di questo gentiluomo del cinema italiano. Le vorrei chiedere innanzitutto a Roberto, prima di cedere la parola a Laura che lo intervisterà, come è nata ovviamente l'idea di dedicare un libro a Massimo Girotti. Allora, eccoci, grazie. Il nucleo centrale di questa ricerca risale a molto tempo fa, ai tempi dell'università, quando io preparavo la mia tesi di laurea in storia del cinema e il Orio Caldirone, che era il relatore, aveva chiesto, dice perché non scrivi qualcosa su Massimo Girotti perché non c'è nulla su di lui. E questa cosa mi ha subito colpito e appassionato, quindi io ho cominciato a vedere film, a raccogliere materiali, è passato tanto tempo, la tesi è andata bene e lì c'è stata l'idea di pubblicare un libro, di colmare questa lacuna. Perché su di lui è passato tanto tempo ma ancora non era stato scritto nulla, anche se in Francia ci avevano preceduto, perché nel 1998 esce una monografia scritta da un professore di liceo parigino, Michel Azopardi, che ha fatto questo libro piccolo ma appassionato anche se imperfetto, diciamo, nelle informazioni. Questo mi ha stimolato ancora ad andare avanti. Insomma la vicenda è abbastanza lunga, è fatta di rinunce, di ritorni, di contatti con registi, con tutti coloro che l'hanno conosciuto. E faccio un altro riferimento che è quello del libro di Giulia Alberico, che era in realtà, perché su Massimo era stato scritto una cosa molto bella, è una conversazione con Massimo Girotti. Giulia è stata una sua amica e questo libro raccoglieva tanti aspetti personali, anche molto personali, perché lui per la prima volta ha parlato di cose che aveva tenuto per sé. E per me è stato il libro di Giulia una fonte di informazione e anche di ispirazione. Eccoci. Volevo salutare qui accanto a me Aramella Girotti, che è la figlia. Sono molto felice di essere qui perché veramente Roberto ha fatto un grosso lavoro con questo libro e quindi viene premiata la sua tenacia, la sua costanza, soprattutto all'amore di mio padre per i giovani, che ha sempre appoggiato gli studenti che incontrava nelle varie scuole e università dove lo invitavano a parlare di cinema o studenti che preparavano delle tesi sul suo lavoro nel cinema. Quindi questa conferma ancora una volta di una sintesi, di un rapporto felice che c'è stato tra Roberto e mio padre, una serie di conversazioni che poi lui è riuscito a rendere preziosa attraverso questo lavoro meticoloso, appassionato, puntuale, che è questo libro. Allora, buonasera a tutti. Io vorrei cominciare a parte con un saluto speciale ad Aramella che ho incontrato negli anni, poi perso sempre per cose di cinema, cose mai legate devo dire a suo padre perché invece li siamo incontrati su altri percorsi, però Aramella come suo padre ha questo tratto di discrezione per cui mi piace molto sentire, come abbiamo sentito poco fa, dare un'etichetta a Girotti, l'etichetta del gentiluomo del cinema perché io ho avuto pochi incontri con lui ovviamente e naturalmente in anni molto recenti, però l'immagine che ho di lui straordinaria, un po' stampata nella memoria è quella recente del set con Ferza Nozbede che era il 2002, credo che fine del 2003, insomma è uscito in quegli anni, quindi forse fine del 2002 e devo dire che c'era un'emozione particolare proprio nell'incontro con una persona che era stata quasi scelta per il tratto umano ma anche per il grande piacere di poter lavorare su un set con degli attori, dei bravi attori contemporanei però con quello che ricordo che Ferzan definì subito insieme a Gianni Romoli un monumento del cinema italiano perché questo è stato anche Massimo Girotti e quando lo vedi con questo sguardo così azzurro, liquido, lontano, insomma era perfetto proprio per il personaggio di Davide che è stato il suo ultimo personaggio, voi sapete che lui poi fin finito non l'ha visto e questa cosa ha creato anche nella troupe in quel mondo, dico delle cose che forse avrebbero detto stasera qui anche altri personaggi appunto collegati alla sua esperienza recente a quel film, ma ne sono stata un po' testimone da cronista naturalmente e quel giorno sul set, mi ricordo che era un esterno, era troppo lì vicino al ghetto, mi veniva in mente sempre la sua immagine che invece avevo conosciuto anni prima sempre da cronista per un'intervista che avevo un po' inseguito e che è quella di di cui racconto qui all'inizio, non so, mi fa quasi imbarazzo chiedere a Rabbella se leggendo questa pagina che ho scritto ha ritrovato i tratti, gliela faremo leggere. Io ero andata, avevo chiesto questo incontro in realtà quando uscì la versione 2, quella americana di ossessione e naturalmente era un'ossessione mediatica come appunto scrivo in queste due paginette iniziali un po' per la stampa del cinema di tutto quel momento perché riusciva un film in una versione che naturalmente sapevamo che sarebbe stata molto molto lontana da quella che avevamo nella nostra memoria e quindi c'era moltissima curiosità. Mi ricordo intanto la sua discrezione e anche il suo imbarazzo nel cercare di negarsi a questo incontro perché poi un po' era timidezza ma un po' era anche quel tratto di riservatezza e anche un pochino di scetticismo iniziale sul fatto che poi i giornali potessero davvero interessarsi di qualcosa che apparteneva a una sua storia lontana. Mi ricordo appunto l'incontro in questa penombra, io ero una cronista ancora giovane per cui insomma c'era un po' di imbarazzo in ravvicinare un personaggio così complesso, così anche distante da quelli che eravamo abituati a intervistare. Con dei lunghi silenzi a un certo punto abbiamo incominciato a parlare, lui disse ma perché è venuta qui? Io non credo di interessare a un mondo giornalistico di oggi perché insomma già si sentiva una differenza forte e del resto io ci andavo perché usciva qualcosa che riapriva un po' la memoria sul film e su una storia che destava appunto molta curiosità nel confronto, quindi non aveva una gran voglia di parlare di questo. Però poi invece decise di farlo raccontando soprattutto cosa aveva rappresentato e questa era una delle mie domande più forti, il tipo di lavoro di rottura che era stato fatto con quel film anche su certi schemi del realismo perché era un film improvvisamente molto forte, molto scandaloso, tant'è vero che insomma la versione, quella che poi non ci è piaciuta più di tanto, aveva preso l'idea del film e l'aveva trasformata in qualcosa di molto molto lontano e molto diverso e lui questo lo temeva. Però la cosa singolare che successe quella volta e che mi è successa una volta sola nella mia storia professionale ormai lunga, più di 40 anni, fu che alla fine di questa intervista lui mi guardò e mi disse ma perché è venuta qui? Sa che questa intervista non uscirà perché è già successo altre volte, i giornalisti di oggi vengono qui, chiacchierano con me e poi io queste cose non le ho mai lette. Io mi ricordo di aver avuto anche un senso un po' così irritato, dico ma perché dice questo? non capisco perché è un presagio che mi viene delle volte quando poi parlo di cose molto lontane, io credo che poi succeda sempre qualcosa per cui non esce, vedrà che non esce. Io sono uscita da lì con questa sensazione terribile di dire ma come è possibile che abbia potuto dirmi una cosa del genere? Beh la cosa singolare appunto che racconto perché è successo è che tornai in relazione con l'idea che dovevo fare una paginata e mi dissero guarda però questa cosa bisogna rimandarla perché non mi ricordo quale fosse il lutto cinematografico del momento ma arrivata in relazione è successo questa cosa inspiegabile per cui la sua pagina andò invece a celebrare un'altra persona della sua generazione ma insomma quel pezzo il giorno dopo non uscì. Quindi io ero imbarazzatissima perché naturalmente ho dovuto telefonargli e gli dissi senta io devo dire una cosa guardi il pezzo lo faremo uscire perché io mi impegno personalmente. Ovviamente poi è uscito però non come avevamo immaginato e quindi con una come dire anche con questa cosa che mi è rimasta che in fondo mi sembrava quasi di aver fatto io una brutta figura e giuro che non era proprio così nelle previsioni però mi è sempre rimasta questa sensazione di una persona che come dire aveva visto qualcosa con una sensazione che solo lui poteva conoscere quindi il senso di questo scetticismo incredibile per cui sapeva che tutto sommato non faceva parte di un'attualità così stringente e sapeva anche forse sulla sua pelle quanto i giornali già stavano cambiando per cui sì si andava a cercare una testimonianza ormai storica consegnata al passato però poi con il rischio che tutto questo fosse esposto naturalmente a quello che ha cambiato profondamente il nostro lavoro cioè l'invadenza o l'invasione se preferite della televisione dei personaggi di tutto quello che è arrivato dopo e che piano piano ha veramente impoverito tutta l'informazione sul cinema perché si è cominciato a parlare di gossip si diceva che i giornali si andassero un po' settimanalizzando perché facevano dei pezzi insomma anche la stampa quotidiana importante non dava più spazio alle cose di sostanza e allora ho sempre il ricordo di questo di questa casa così con con il velluto delle poltrone blu un po' consumato con queste sue mani sul bracciolo mi aveva offerto un caffè e anche la tazzina era perfettamente intonata a questo prima ma devo dire che forse di quell'incontro ricordo proprio anche un po' il senso di rispetto profondo da cronista giovane nei confronti di un personaggio che insomma era veramente aveva un carisma particolare e quello stesso carisma quando poi l'ho rivisto sul set appunto nelle giornate delle riprese della finestra di fronte è stato proprio qualcosa di molto forte perché quando lui girava su quel set c'era un silenzio assordante cioè un modo proprio di lavorare che forse ho sentito tra gli attori contemporanei solo quando ho vissuto un'esperienza incredibile perché ricordate tutti quando si parlava dei capricci di De Niro che era a Roma per c'era una volta in America e io devo dire che sempre insomma spingendo molto Sergio Leone e fammi fare un pezzo e fammi venire e fammi venire sul set non si poteva però insomma a un certo punto mi dice senti basta allora guarda sei venuta qua ti metti dietro quella colonna una colonna di legno era nella cinecittà insomma nella parte interna ricostruita ti metti lì dietro non respirare nemmeno perché lui non vuol sentire niente e in quest'aura come dire di silenzio assoluto io vedi recitare De Niro nella parte finale della sequenza finale del film questo non c'entra con Girotti ma è tanto per darvi la sensazione proprio forte di quell'emozione che ti può dare un grande attore quando senti il carisma veramente quando lo senti con la sua voce in un duetto del genere e in questa scena finale che era poi quella nello studio in cui c'è insomma il confronto finale poi lui esce passa quel camion della spazzatura e sparisce nel nulla io mi ricordo di aver non aver potuto scrivere nulla ma come dire tutto nella memoria poi scrissi naturalmente un pezzo molto molto emozionato anche da questo ecco io credo che mi piacerebbe se oggi i cronisti di oggi avessero l'occasione di fare questo e magari di spendere un po meno tempo per andare non so magari a volte sui set di qualche reality dove i giornali ti mandano per fortuna poi ci sono le eccezioni quindi ecco questo è stato un po il mio incontro con Girotti invece vorrei raccontare l'incontro con Roberto perché io di questo libro credo di aver sentito il respiro e sono molto contenta di essere qui stasera perché il libro c'è fin dalla prima volta in cui siccome sapete che Roberto lavora in una televisione e io sono stata invitata veniva invitata a partecipare appunto a questi incontri sul cinema e nelle così nella corsa frenetica che c'era sempre tra l'arrivo il passaggio obbligato al trucco perché o ti truccano o ti riguardano arrivi a metà giornata che sei già sfinito no quindi in fare tutto questo lui che aveva in una mano i fogli con i quali dovevamo preparare insomma almeno sapere di che dovevamo parlare e nell'altra appunto forse in qualche modo metaforicamente le pagine di questo libro che aveva tutto in testa mi raccontò la seconda volta molto timidamente senti io ti devo dire una cosa anzi forse mi hai dato pure per lei la prima volta dice io però devo dirti una cosa io voglio fare una cosa devo fare assolutamente ho questa urgenza devo fare un libro su girotti come facciamo e ho ancora la collezione di mail perché mi ha mandato il primo progetto mi ha detto come pensi dove quale sarebbe un editore giusto allora abbiamo cominciato a pensare anche al fatto che un monumento appunto del genere doveva trovare anche un'interfaccia un interesse una corrispondenza con il centro sperimentale con la cineteca perché è lì che poi c'è sono i custodi in fondo della nostra memoria vorrei condividere con loro qualcosa che mi ha detto Erman Ormi una volta e di cui vado molto orgogliosa cioè c'è chi nel cinema ma soprattutto per il cinema italiano riesce a tenere acceso un caminetto ecco io credo che al centro questo tipo di lavoro che si condivide sia veramente una così un modo per tenere acceso il camino in una casa che spesso invece viene un po' dimenticata e quindi detto questo insomma Roberto è stato molto tenace abbiamo parlato a lungo di tutte le così le possibilità che questo libro poteva avere quando un giorno mi ha scritto ce l'ho fatta perché lo faccio lo faccio è pronto lo scrivo e naturalmente mi ha chiesto la prefazione non potevo che raccontare qualcosa una storia una testimonianza di questo incontro perché poi certo io sono arrivata molto dopo e quindi non potevo fare come dire un saggio su qualcosa che forse anche lui da studente aveva studiato ben di più e analizzato ben di più e che aveva potuto condividere forse con un critico io mi sono sempre definita anche se poi sono oltre che insomma scriverne da cronista certamente sono molto appassionata delle cose del cinema di ieri e di sempre però detto questo insomma mi preferisco definirmi giornalista come tanti di noi che sono anche qui stasera e non rubare un'etichetta che non ho detto questo Roberto va premiato veramente perché ha fatto una grande fatica ci ha creduto è stata la sua piccola ossessione per ma anche la sua magnifica ossessione per un periodo veramente lungo e sono molto contenta per lui che sia riuscito a farcela e a darci questa bellissima testimonianza anche perché il libro è prezioso intanto perché credo che sia un bel risarcimento perché Massimo Girotti è stato assolutamente dimenticato per molto tempo come tanti dei grandi attori di allora quando appunto fare l'attore era unire il cinema al cinema e a questo mondo in uno splendido bianco e nero unire il teatro, l'esperienza, la passione insomma qualcosa che faceva degli attori veramente degli artisti unici e che oggi un po' di patos lo toglie sicuramente invece con tutta la vicinanza che i media hanno in qualche modo insomma accorciando le distanze hanno tolto anche un pochino forse di quel fascino che avevano questi personaggi allora io adesso mi taccio perché vorrei che invece Roberto ci raccontasse cosa l'ha appassionato di più di Girotti qual è il tuo film preferito per esempio? allora innanzitutto è un respiro di cui parlavi che hanno... che ho condiviso con tante altre persone devo dire tantissime, parenti, colleghi, amici... devi dei grazie a qualcuno nel momento guarda a tutti in realtà prima venendo pensavo che in fondo anche loro mi hanno tenuto acceso in questa mia ossessione perché anche nei momenti di scoraggiamento quando tante volte l'ho infilato nel cassetto e ho detto vabbè non si farà mai, pazienza e loro invece mi hanno spinto ad andare avanti a tenere duro, a trovare nuove cose quindi ogni tanto io facevo un giro di email e ricominciavo allora cosa facciamo, chi posso coinvolgere insomma con Arabella anche ogni tanto ci sentivamo, ci scrivevamo però è vero che io dall'inizio ti ho sempre detto lo faremo cioè una cosa di questo genere, devo dire, non poteva dire il cassetto quindi sentivo proprio questa urgenza e anche questa grandissima passione quindi insomma mi fa veramente piacere che poi... io appunto per tanto tempo l'ho tenuto nel cassetto perché non riuscivo a trovare un editore che portasse a termine questa cosa tutti erano molto contenti però poi di fatto non si concludeva nulla e poi invece questi editori ne ho trovati addirittura due quindi la cosa è stata... si è conclusa in una maniera perfetta senti Gino Costa, cioè ossessione, è uno dei suoi personaggi che tu ami di più però tu dici anche che le due immagini di Girotti che ti hanno più appassionato con quella di Gino, insomma è l'immagine della corona di Ferro quindi proprio il blasettiano come dire sono molto lontane tra loro molto, molto analizzando questa storia e proprio facendo un lavoro semiologico su queste due immagini che cosa ti dicono? ma che lui arriva nel cinema perché era un uomo, un ragazzo bellissimo era una creatura essenzialmente fotogenica e questa sua fotogenia, questo splendore viene premiato, viene capito da Blasetti che ne fa una star siamo nel 1942 la corona di Ferro esce nel 1942 e lui diventa una sorta di Tarzan italiano perché Blasetti lo veste anzi lo sveste poi lo fa comparire come una sorta di Robin Hood gli dà mille travestimenti il suo personaggio è magnifico esprime forza, coraggio e quindi lui quando il film esce alla mostra del cinema di Venezia e poi nelle sale italiane diventa una star diventa un attore celebre che va sulle copertine dei rotocalchi e va ad aggiungersi a tutti gli attori dell'epoca c'era Le Siga, Gino Cervi, Rossano Brazzi forse Raffa Vallone era ancora presto sì, ho visto è la fine, ecco, grazie lui, l'incontro invece con Visconti sarà determinante perché è lui che lo trasforma in un attore è la persona che come una sorta di mentore per tutta la vita lo accompagnerà e lo dirigerà verso dei binari rigorosi dal punto di vista professionale e lui sarà, Visconti, per Girotti una sorta di guida per un'evoluzione che non era solo professionale ma anche intellettuale, culturale una volta Arabella mi diceva io ricordo questi Natali da Visconti, Regali, a Viscia cioè c'era un rapporto anche quando non era più professionale che è durato tutta la vita lui è stato l'artefice di questo cambiamento sostanziale quindi questi due poli a cui lui era in qualche modo costretto perché poi è stato un bello per sempre e quindi a un certo punto quando la carriera era un po' incrinata veniva richiamato per essere Spartaco per essere un gladiatore insomma trovava uno spazio in un cinema che magari non era considerato di primo ordine se così si può dire ma che lo faceva lavorare e quindi grazie non solo alla sua questa magnifica presenza scenica ma ad un lavoro di introspezione di ricerca questo bisogno di dare di più rispetto ad altri attori perché dobbiamo dirlo lui in qualche modo aveva un senso di inferiorità verso gli altri attori mi è sembrato di capire ma più che di inferiorità era convinto che il suo successo fosse legato a questa forma fisica la fortuna di questo fisico abbastanza straordinario che lo avvicinava come senso ai dividi Hollywood insomma era in qualche modo un'eccezione rispetto a quello che più o meno si conosceva in Italia ovviamente in America forse c'erano molte più persone molti più attori del suo genere però fisicamente in effetti poi è sempre stato uno sportivo voglio dire c'era tutta una situazione che sicuramente gli ha giocato e ci ha messo molto tempo per sentirsi bravo e la finestra di fronte è stato forse il coronamento di questo suo desiderio di sentirsi bravo nel senso che per molto tempo non gli è stata data l'opportunità di incontrare un personaggio nel quale veramente rappresentarsi e il protagonista della finestra di fronte quando ormai aveva più di 80 anni è stato l'incontro con il destino in qualche misura con il personaggio che lui avrebbe sempre voluto incontrare che forse pensava di non incontrare mai più perché insomma ormai gli ultimi anni lavorava poco e quindi quello che conosco è che è stato un incontro abbastanza magico speciale, una grande opportunità sicuramente posso chiedere una cosa alla signora Rabella di solito quando si domanda ad un regista quale tra i film che ha realizzato ha gode così di una particolare predilezione molti rispondono no non mi fate queste domande i figli sono tutti uguali per carità ma visto che abbiamo la fortuna stasera di avere una testimonianza diretta vorrei chiedere alla signora Rabella senza rischiare di svelare alcun segreto così particolarmente riservato se c'erano tra i suoi film che sono stati tanti e alcuni molto importanti delle opere cinematografiche che in qualche modo Massimo Girotti predileggeva sulle altre tra i suoi film? tra i suoi film, quelli interpretati da lui ma non so, credo di non farlo rispondere a questa domanda non lo so, non me l'ha mai parlato forse il suo rapporto era con tutto il suo cinema con il cinema genericamente nel senso che poi lui aveva questa specie di gratitudine infinita per quello che il cinema gli aveva dato al di là del successo di attore come persona le opportunità per esempio di viaggiare di entrare in situazioni speciali che non sono consentite alla maggior parte della gente questa idea della scoperta la conoscenza e quindi io credo che abbia usato il cinema come mezzo per crescere per scoprire delle cose di sé e quindi ogni film è stata una storia è stato l'incontro con un regista è stato un momento della sua vita importante ma non mi ricordo di averli sentito parlare di un attaccamento speciale di un titolo in particolare neanche Ossessione Ossessione per la fatica ecco, forse ricordo dei film in rapporto alla fatica allora Ossessione c'era questo racconto mi ricordo in casa dove lui ricordava questa fatica di risalire il ghetto di fiume con questo corpo in braccio e questa scena è stata ripetuta credo perché poi Visconti in particolare era molto esigente e quindi non so penso che forse cento volte gli ero fatto fare questa scena mi ricordo questo racconto o non so un film di Pasolini penso fosse l'idea dove c'era un'altra cosa di costumi pesantissimi in una situazione di Pierotosi in una situazione di caldo spaventoso in Siria quindi ecco la fatica sì me la ricordo ma il diciamo un film nel quale si sia particolarmente riconosciuto forse no o il rapporto con i registi mi ricordo era molto importante allora non so l'incontro con Petri De Santis era un suo grande amico scuola con passione d'amore ma parlava sempre di vita più che di cinema nel senso che il cinema come dicevo appunto era un mezzo per uno strumento per per questa continua per questa sua passione di vivere come avevo avuto modo di dire altre volte no? di conoscere di scoprire di saperne di più di se stesso degli altri era un lungo cammino era un percorso senza fine quindi un film era soltanto un pezzo no? un pezzo di un percorso di un viaggio o anche di germi per esempio adesso a seguire proietteremo il nome della legge c'è qualche ricordo particolare qualcosa? il nome della legge è una storia privata molto privata nel senso che il racconto poi te ne avevo già parlato forse di me bambina che insieme a mia perché io sono del 48 quindi ero piccolissima di me bambina che con mamma attraversavo il deserto siciliano al rischio di incontri con briganti non so protetta da qualcuno della produzione e beh questo è un gioco una una storia di famiglia comunque sì sicuramente è stato un film molto importante è stato importante il rapporto con Germi è un film che è molto amato sì certamente posso dire una cosa che mi avete fatto unire in mente invece a proposito della bellezza ecco la bellezza maschile con dei canoni assolutamente così diversi da quello che poi è arrivato dopo e se volete molto più hollywoodiani per un aspetto ma invece di una fisicità fortissima non è un caso prima tu hai citato Raffaello tra l'altro c'è Eleonora lì forse mi perdonerà se dico una cosa privata di famiglia che non è privata perché è stata raccontata però una cosa meravigliosa che ho sentito dire a tua madre Eleonora a proposito del suo incontro con papà era che lei si era innamorata di Raff non perché lo aveva visto così in azione sul set ma perché aveva adorato la sua nuca la sua nuca cioè questa cioè una bellezza come dire maschile addirittura così che traspariva da un'immagine assolutamente personale e inedita rispetto al rapporto ai canoni che normalmente fanno pensare all'incontro tra un uomo e una donna ecco questa è una cosa bellissima che appartiene sicuramente a un'epoca ma che mi fa pensare che poi la cosa che lega questi due attori è stata anche un'origine così con un grande senso dello sport e quindi con una fisicità molto forte sullo schermo e poi però erano delle bellezze che evidentemente ispiravano anche non solo così un senso forte del rapporto fisico ma proprio anche un qualcosa in più ecco che poi sullo schermo evidentemente passava quindi erano immagini sì del Tarzan come dicevi tu un po' all'italiano ma sempre con una fortissima percezione anche della come dire di quello che c'era dietro e questo sapeva conquistare anche come dire le donne anche solo ad uno sguardo quindi evidentemente insomma c'era anche un canno diverso di rapportare sia alla bellezza maschile che forse anche una sorta di filo impercettibile che poi lo legava ai rapporti col mondo con le donne e che li faceva guardare dalle donne perché questa era la cosa meravigliosa cioè la bellezza anche in queste foto di cui il libro è pieno e che sono le foto di un modo anche cinematografico di illuminare questi corpi e questi visi che appartiene a un'epoca poi finita con l'arrivo del colore con una fotografia completamente diversa tutto questo ha una sua leggenda e credo che questo libro nel racconto ce la restituisca fino a film anche più recenti presenterete quando interno berlinese della Cavani ecco sabato sera lei verrà quindi stavo giusto facendo un link perché ho sentito che lei ci sarà e credo che anche quello sia un film dove questa bellezza riemerge anche se in una maniera agida completamente diversa del resto c'è un girotti e questa è forse l'ultima cosa che vorrei chiedere a Roberto anche perché poi dobbiamo lasciarvi al film c'è un girotti che è piaciuto ai registi internazionali quindi al mondo del cinema d'autore straniero che è molto diverso se volete dall'immagine e da quello che appare nei film d'autore italiani tu l'hai colta questa differenza cioè come lui è stato poi tra virgolette usato o le proposte che ha avuto dal cinema internazionale dai registi stranieri hai sentito una certa differenza di immagine? no questo non molto diciamo lui aveva una fisicità che non andava spiegata né declinata hai fatto riferimento all'interno berlinese lì non a caso il film della Cavani richiama per molti versi quello di Visconti quindi dopo tantissimo tempo Girotti ritrova un personaggio suo lui fa una brevissima apparizione solo una o due scene però rimane impresso proprio per questa per la perfezione figurativa di questa di questa scena e quando ho intervistato la Cavani lei mi ha detto dice io cercavo un attore che avesse un qualcosa di diverso che gli altri non avevano gli altri attori non avevo bisogno di un istrione avevo bisogno di un attore che che avesse scavato dentro e lui era la la persona giusta cosa che poi è confermata dal loro rapporto che fu un rapporto molto molto bello anche se breve legato a una piccola partecipazione senti altri due nomi così proprio due intramuscolari Pasolini Medea e ultimo tango Bertolucci sì Pasolini prima ancora teorema però in Medea è diverso perché questa bellezza non c'è più in Medea lui aveva questi abiti di Pierotosi sembrava proprio un'icona incastonato era quasi spersonalizzato questo sì il rapporto con Pasolini fu un rapporto sì lui aveva una grandissima stima di quello che considerava l'eretico della cultura italiana e anche se poi il loro rapporto non è stato con quella confidenza che lui cercava e quindi aveva un po' sofferto anche in questa roba e là mi ha raccontato un episodio molto divertente che spiega questo rapporto magari lo facciamo raccontare a lei però vi spiego insomma loro erano all'aeroporto probabilmente di Damasco erano in attesa dell'imbarco Pasolini era immerso nella lettura e lui diceva come sempre sembrava veramente chiuso nel suo mondo dove gli altri difficilmente riuscivano ad entrare allora Massimo per rompere così questo silenzio che stava leggendo in quel periodo di Joyce Ululisse che non è certo una lettura facile allora gli ha detto dice ma Pierpaolo dice ma Ulisse e aspettava una così una qualcosa e Pasolini si interrompe lo guarda e gli fa dice il pane quotidiano e questa e così finisce la loro la loro conversazione e questo appunto racconta questo rapporto di due uomini così anche silenziosi così che cercavano un contatto che più di tanto non arrivava Bertolucci lui lo trova ed è uno dei suoi registi preferiti sarà perché è un regista che riesce a dargli quel sostegno e quell'accudimento che lui cercava sul set perché era un attore che doveva essere portato per mano quindi non domato da un regista ma accompagnato e quindi in questo Bertolucci riesce a conquistarlo noi c'è questa scena famosa con Marlon Brando ci sono anche delle foto a proposito vorrei sapere da uno di voi due ma è vero che lui si meravigliò quando Brando cioè pensava che Brando non sapesse della sua storia così e si meravigliò invece nell'incontro cioè lui sentiva di incontrare Marlon Brando ma insomma non pensava che Brando non pensava di essere conosciuto invece lui arriva sul set a Parigi e si accorge che Bertolucci e Marlon Brando parlavano proprio di lui e quindi lui arriva e viene accolto non certo come uno sconosciuto ecco due attori diversissimi per carriera per temperamento per modelli paricitativi e pure anche così vicini tutte e due erano stati due sex symbol certo in qualche modo c'era una differenza ma insomma con questo senso molto forte quelle canottiere le canottiere che erano già viste era bella il libro non so se l'hai già letto no ancora no quindi bisognerà fare un bis per sapere davvero cosa ne pensi assolutamente sì 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 ti emoziona leggerlo? sì mi emoziona molto e cosa hai pensato del fatto che in tanti anni ci sia stata un po' di distrazione rispetto a un padre così come dire così discreto ma anche così importante invece come attore che fosse un po' colpa sua sì questo è un finale meraviglioso per cui siccome c'è il figlio direi di lasciarci con tutto questo allora lo calupo Roberto questo è un battesimo insomma ce l'abbiamo fatta perché è stato un loro parto grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti